Viali e giardini delle scuole da domani a Chieti avranno 80 alberi in meno. Il taglio delle alberature, stabilito dal comune in varie zone della città, fa seguito ad altri provvedimenti simili che sono già stati attuati in precedenza senza trovare il favore degli ambientalisti, che non vedono di buon grado questo piano di impoverimento arborio del capoluogo tiatino. A Chieti manca una politica verde capace di gestire il patrimonio arborio della città, denuncia il WWF, che si scaglia contro i continui rimpalli di responsabilità tra vecchia e nuova amministrazione, con il sindaco Ferrara e l'assessore Zappalorto che legittimano la scelta, parlando di esemplari a rischio caduta e promettendo il ripristino degli stessi. Giustificazioni che però non bastano per Nicoletta Di Francesco, delegata del WWF di Chieti, che a Pescara, intervenendo alla conferenza stampa per la presentazione della quinta edizione di Urban Nature, definisce il provvedimento una vera e propria strage di alberi, che dietro l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica, nasconde l'inefficienza delle amministrazioni comunali di prendersi cura del patrimonio arborio della città. Siamo in disaccordo perché per quanto possono essere malati questi alberi si può anche intervenire in altra maniera. Certo ci vorranno dei fondi, però si possono anche richiedere, fare dei programmi proprio per riqualificare la situazione, rimettere a posto questi alberi e portarli in salute. Forse non tutti, però 80 alberi che vengono eliminati è una perdita notevole per tutta la città, considerando che gli alberi insomma assorbono tutti gli inquinanti, quindi anche in un viale dove c'è un forte traffico potrebbero contribuire all'attenuazione dell'inquinamento. Assorbono tanta acqua, adesso è un momento di siccità, però quando pioverà gli alberi avranno la potenzialità di assorbire tanta acqua, quindi trattenere anche con le radici, i terreni, sono indispensabili per noi perché sono l'unica fabbrica di ossigeno che abbiamo, quindi anche intervenire nelle scuole dove verranno tagliati gli alberi all'interno dei cortili, forse qualcuno potrà essere eliminato ma altri potrebbero restare secondo noi. Il problema è sempre lo stesso, noi andiamo a eliminare ombra, tutte le proprietà che possono essere utili a noi, insomma, di questi alberi, quindi sarà un momento della sofferenza, della calura quando ci sarà, questo forse va ripensato un po' alla città come diciamo anche noi con Urban Nature, cioè riprogrammare la città e renderla vivibile e fare in modo che ci sia più biodiversità a noi necessaria.